ciao a tutti benvenuti che nottata è stata una nottata del merda una nottata del merda inizio subito con chiedere scusa per ieri perché troppe volte nei video dico napoli di qua la mia parola odio questo devo chiedere scusami però l'odio è sempre sportiva è vero che poi aggiungo che i napoletani a me non mi stanno simpatici ma si può dire almeno sta cosa si può dire speriamo che almeno questa cosa si possa dire se no altrimenti usiamo di nuovo la censura e quindi chiedo scusa per la parola odio che non è bella però continua a essere della mia opinione veder vincere il napoli sarà sarebbe una cosa disgustosa vabbè basta comunque non voglio parlare di questo stata nottata di merda perché perché più ci ripenso e più dico ma sono tre indizi che fanno una prova tre indizi che fanno una prova non il primo è stato quello col sassuolo se vi ricordate la seconda giornata 0 a 0 è già lì dissi ma 0 a 0 però ancora è presto ci riprenderemo poi c'è stato lo scivolone col 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 torino col napoli va bene ci sta l'hai giocata l'hai persa va bene uno scontro diretto col torino l'hai persa e ieri sera l'hai pareggiata con la cremonese questa cosa qui continua a battere la con la cremonese ragazzi che non so mai se quest'anno vincerà una partita questa è l'umiltà ieri sera è mancata l'umiltà perché io a stefano ragazzi non mi sentirete mai a dirgli a non gli dirò non gli farò mai una critica perché è uno che ha portato il milan di nuovo lì sopra e io la riconoscenza so cosa vuol dire non gli dirò mai a uno come allenatore ma soprattutto come uomo non gli dirò mai a però ieri l'hai sottovalutata stefano non puoi dire di no ieri l'hai sottovalutato perché giocare a tre dietro e quattro centrocampisti cioè vuol dire che tu hai giocato con i due esterni con i due esterni che erano balutore messias a tutta fascia tu vuol dire che ieri sera hai voluto fare l'esperimento hai voluto fare sto esperimento perché per quale motivo cioè tutti quanti giocano con i titolari tutti quanti giocano 90 minuti o il milan deve fare sempre sto turnover di merda veramente io dico orighi rebic possono bastare contro buonaiuto ser nicola affena gian e perez dai poteva bastare ok ci sta l'ho sottovalutato anch'io però tu non puoi cioè tu non puoi ieri mancavano teo e giru e tu non metti leao per quale motivo lascio perdere che poi leao adesso come adesso è si vede che gli manca la concentrazione per questo cazzo di contratto io dico ragazzi cioè scendiamo da non scendiamo dal carro di leao però facciamoci una ragione questo qui se non lo vendiamo a gennaio o a giugno questo qua fa la stessa cosa di che si di merdanoglu e di donna roma vanno via zero e tu te la pigli sempre nel culo quindi basta rincorrere questi giocatori basta perché se tu vuoi otto milioni di euro l'anno tu queste partite anche se entri dalla panchina dove tu sei uno che ha bisogno di fiducia ha bisogno sempre di essere stimolato tu queste partite devi entrare le devi scassare proprio le devi demolire e non lo fai non lo fai perché perché tu ancora top player nella testa non lo sei non lo sei non lo sei non so non so cosa dire davvero deluso delusissimo de kettler ok non non voglio esprimermi su de kettler non mi voglio assolutamente esprimere quando era arrivato ovviamente cosa qual è la differenza tra oggi tra il milano e napoli sapete qual è il mercato il mercato io penso sia il mercato ed è così perché io sono uno che comunque ha iniziato a fare i video da da poco ma io sul mercato sono sempre stato uno che punge 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 perché il napoli si è tolta quelli balì che adesso è seduto perennemente in panchina al celsi si è tolta mertens insigne che per me è un giocatore scarso veramente come l'acqua in africa giocatore scarso è bastato quarraschelli un ragazzo di 21 anni che c'è proprio non ha paragone con insigne è proprio un altro tipo di giocatore insigne è il suso della sinistra stessa identica cosa tale quale fabian ruiz l'è venduto l'è rimpiazzato con raspadori uno dei più grandi talenti italiani ne abbiamo pochi ma secondo me è il migliore simeone dombele che è un giocatore internazionale pagato 60 milioni dal totale non lascia perdere che ha fallito col totale kim che io conoscevo onestamente ma così forte non me l'aspettavo guarda schelia il milan cosa ha fatto ha perso che si l'ha rimpiazzato con branx tu l'hai mai visto branx io no abbiamo speso tutti i soldi per the cattle in questo momento impresentabile ciao un ragazzo di 21 anni sconosciuto che alla fine era sconosciuto io lo conoscevo si qualche partita io l'ho vista fare ma sconosciuto ad li chi si è visto chi l'ha visto scusate dest si veniva dal barcellona ma sempre rotto vabbè il mercato è stata la è la motivazione per cui noi abbiamo otto punti in meno dal napoli il napoli che secondo me ha ricominciato un ciclo meglio il ciclo di prima non ha vinto un cazzo però ha ricostruito una squadra con due palle così lascia perdere che ieri c'è stato un rigorino ma io ieri il rigorino del napoli neanche l'ho guardato poi soprattutto gente che ieri si è attaccata gente del mia si è attaccata al rigorino con la cremonese ma tu puoi attaccarti a un rigorino con la cremonese che poteva anche esserci secondo me se c'era il napoli io glielo davano ma non perché il napoli sia favorito ma tu se non vinci con la cremonese non puoi attaccarti campioni d'italia soprattutto non puoi attaccarti a un rigorino che non ti hanno dato non puoi non puoi perché è proprio una mentalità da perdente se lo fai quindi il mercato è stata soltanto questa questa differenza il napoli ha costruito una squadra con i controcazzi il milano ha continuato a fare scommesse e per la prima volta la paghi per la prima volta la paghi perché i giocatori che hai a centrocampo fondamentali sono benassero e tonali basta basta pobegano è un mediocre brancs non l'hai mai visto cruni c'è uno che un buon mestere ante niente di più il napoli centrocampo c'è a zielischi dombele loboc anghis elmas c'è la differenza la fatta quelle in attacco in attacco non voglio paragonare il milan col napoli in attacco però guarda schelia osimene ci metto dentro politano e lo zano raspadori simeone è la profondità della rosa ragazzi la profondità della rosa sono soprattutto giocatori di esperienza non sono tutti ventenni quindi per me il campionato è finito cioè per me è finito io non fino a quando la matematica non mi condanna ok la tifo sempre ci mancherebbe ma soprattutto adesso la tifo sempre ogni giorno ancora di più ma il campionato è finito io non sono pronto assolutamente a vedere questo napoli campione d'italia non ce la posso fare non ce la posso fare iniziamo a guardarci un po più dietro va meno male che adesso c'è questa pausa perché dobbiamo veramente farci un bagno di umiltà a tutti 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 dal primo all'ultimo perché l'anno scorso tutti ci dicevano che eravamo scarsi e quella è stata la motivazione per cui abbiamo vinto il campionato quella è stata la motivazione quest'anno siccome abbiamo questo cucito sul petto ed è pesante noi abbiamo perso l'umiltà e la fame perché pensiamo di essere già arrivati non questo è stato questo è lo sbaglio più grande che stiamo commettendo a parer mio detto questo 8 minuti e mezzo di video che se ne aveva fatto un video esaustivo mettete mi piace condividete iscrivetevi al canale ciao a tutti